non l'ho visto di persona ma ne parlano da qui al kentaki un mercenario tedesco di quei soldati dell'assia era in battaglia quando una palla di cannone gli ha staccato la testa l'intero battaglione è fuggito e hanno perso ma quel tizio non è morto allora si aggira a cavallo nella campagna attorno al campo di battaglia in cerca della sua testa insegue i poveracci che incontra e li decapita tutti quanti porta una zucca sul collo e che non troverà quello che cerca come ho detto non l'ho mai visto ma ho visto i corpi che si lascia dietro senza vita e senza testa io abbia pietà di loro a 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